Prezzi dei carburanti a settembre segnano forti rincari, la benzina sale del 3,9%, il gasolio per mezzi di trasporto aumenta del 3,1%. Lo rileva l'Istat, su base annua si registrano accelerazioni sostenute per la verde che sale dal 20,1%, il tasso più alto da aprile 2012 sia per il diesel in rialzo del 21,7%. A settembre il rincaro annuo del cosiddetto carrello della spesa ai prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, dal cibo ai carburanti stessi, è del 4,7%, un rialzo superiore all'inflazione, 3,2% e in forte accelerazione rispetto a quanto registrato ad agosto, 4,2%. Infatti si tratta del livello più alto da aprile di quest'anno, dice l'Istat, confermando le stime provvisorie e aggiungendo che anche su base mensile l'aumento è deciso con un rialzo dello 0,8%. Per quanto riguarda i provvedimenti del governo tecnico, la legge di stabilità ha introdotto un tetto di 3.000 euro per le spese da portare in detrazione fiscale, già a partire dalla dichiarazione 2013 sui redditi 2012. La misura è infatti retroattiva e si applicherà alle spese sostenute da gennaio di quest'anno. Oggetto della misura, le voci su cui si applica la detrazione del 19% ad esclusione di quelle sanitarie, su cui però scatta la franchigia da 250 euro. Resta inoltre il dubbio sul significato di questo tetto. Si applica la spesa sostenuta o detraibile? In quest'ultimo, probabile caso, vorrebbe dire godere di una detrazione massima di appena 570 euro. La norma, ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sembra infatti riportare la seguente indicazione. Gli oneri sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore ai 3.000 euro. Il tetto alle detrazioni si applicherà a tutti i contribuenti con reddito superiore ai 15.000 euro. Sono quindi esenti coloro che dichiarano meno di questa cifra. Sul tema della legge di stabilità è intervenuto il vice capogruppo della Lega Nord alla Camera Maurizio Fugatti, altro che manovra di stabilità costo zero, con il sordido trucco sulla retroattività delle deduzioni e detrazioni fiscali, denuncia il deputato Trentino. Oltre a violare lo statuto del contribuente, il governo Monti ha varato una vera e propria finanziaria i cui effetti influiranno subito sui consumi e saranno quindi regressivi. E sempre alla faccia della crescita e dello sviluppo, il fantomatico taglio IRPEF è stato surclassato dalla copiata dell'aumento IVA con le minori deduzioni e detrazioni. È l'ennesimo atto di arroganza di un governo illegittimo che, afferma Fugatti, tratta i cittadini come sudditi fiscali, dimostrando di non aver cun rispetto neanche per il lavoro del Parlamento.